grande magari ci sono marcado mi ero neanche accorto ma un metro alla porta ma stanno tre di loro senza neanche staccare vabbè 1-0 e si è lasciato il segno come maradona dopo che hai fatto il record di gol vai Arcadius attaccante Milic una palla toccata è un po' doppietta del Nihon cullibali doppietta mai successo vai cullidu cullibali però fallo pure con i giovani è stato a piedi mi dico che sarebbe questo risultato che lo zessi eh lo zessi sarebbe un buon viaggio però non lo prendiamo il gol eh indicazioni di Ospina quando mancano 30 secondi alla fine della partita ecco il cross guarda una cosa di pazzo guarda accrocia in la Chievo chiave 1 Napoli 3 allarga le braccia di Caglio e nel partire quasi con me a dire finalmente l'operazione no ma non è per il fatto che non riuscimo a chiudere una partita senza pigliare la colla ma così ma si con un gol guarda là la cosa la cosa che fa di set è che lui non salta neanche là capito cioè allora tu si difendi così hai capito dei partiti importanti cioè hai capito che modo di difendere sul calcio da fermo cioè se difendiamo sul calcio da fermo guarda sei incazzato quello è il problema eh